Abbiamo approfittato della presenza in Puglia della Commissione Agricoltura presso il Parlamento europeo e siamo riusciti a programmare una loro sosta qui nei nostri territori per far ammirare e conoscere direttamente le nostre risorse, in particolare i nostri uliveti. E nell'occasione abbiamo anche fatto conoscere più da vicino gli uliveti millenari, secolari che oltre a garantire, se così si può dire, il reddito dei nostri agricoltori rappresentano parte o gran parte della nostra storia e della nostra cultura. L'occasione è stata anche propizia per chiedere alla Commissione, se mai non ce ne fosse ancora bisogno, un ulteriore sostegno per i nostri agricoltori, per i nostri olivicoltori che con gran fatica cercano di mantenere in piedi questo patrimonio per poterlo poi tramandare alle generazioni future. E gli stiamo facendo vedere ai colleghi tedeschi, irlandesi, non solo quelli spagnoli, greci, fargli vedere quella che è la realtà mediterranea, la realtà della cultura dell'olivo, perché può sembrare strano per noi che ci abitiamo e che viviamo in questa terra, ma solo il 5% dell'intera superficie agricola europea è coperta da alberi, il 95% sono pascoli o culture estensive. Per cui è importante capire anche le difficoltà che hanno i nostri imprenditori a tenere questi oliveti secolari che hanno costi di produzione molto più alti degli altri e che evidentemente non possono applicare le stesse impegni ambientali che hanno altre culture, perché qui già mantenere un oliveto secolare è di per sé una pratica che andrebbe protetta, così come protetti sono dall'UNESCO, le nostre produzioni mediterranee, la dieta mediterranea, eccetera. Quindi è un fatto culturale ma è anche una visita didattica che vogliamo che il nostro Parlamento, la nostra Commissione abbia una consapevolezza dei territori europei e della biodiversità dei territori europei. Questo scambio di conoscenze e di cognizione penso che sia necessario ed indispensabile per comprendere che sì, da un lato noi valorizziamo questo territorio che fa la differenza nel settore del turismo, ma siccome la Puglia non è solo turismo, ma ha un'antica inveterata tradizione agricola, è il caso di sgomberare il campo anche da vecchie dicerie in ordine ai nostri trucchi, qui c'è il lavoro, c'è il sacrificio, c'è l'impegno degli agricoltori che come diceva giustamente l'onorevole De Castro per conservare questo territorio mettono un grande impegno ed è l'occasione anche per rendersi conto che c'è una realtà mediterranea che ha bisogno della collaborazione dell'Europa e di un'attenzione finalizzata proprio ad invogliare, a sostenere le ragioni dell'agricoltura e degli agricoltori nei nostri territori. Quindi la visita della Commissione europea in Ize d'Austuni, siamo gratificati e onorati di questo e ringrazio ancora una volta l'amico di questa nostra realtà che l'onorevole De Castro non perde occasione per spendersi in questa direzione.